Buongiorno, ben ritrovati a tutti, eccoci con la nostra consueta Envy News. Oggi voglio parlarvi dei risultati di una ricerca tutta italiana del CNR di Pisa, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ricercatrici e ricercatori italiani che hanno lavorato, stanno ancora lavorando, hanno pubblicato i primi risultati di questa ricerca di un clone di pioppo, il clone Villafranca del pioppo bianco. Per chi non lo sapesse, l'Italia è leader mondiale nello studio della coltivazione del pioppo, nella selezione clonale di pioppi per la produzione di legno e pasta di cellulosa. Ma questo è un altro discorso. Torniamo alla Envy News. e hanno studiato la reazione di questo clone di pioppo, che è pioppo bianco, quindi il clone Villafranca, nei confronti di alcuni prodotti di degradazione delle plastiche, in particolare quelli più pericolosi per la salute dell'uomo, come gli iftalati. Gli iftalati arrivano dalla degradazione di molecole plastiche, vengono utilizzati, addizionati per dare una maggior resistenza, una maggior impermeabilità ai gas, una maggior flessibilità alle plastiche. Per esempio, pensate alla nostra normale bottiglia che contiene bibite gassate, come le sode o come l'acqua gassata, è in PET, cioè un polietilene. Il polietilene è una molecola che si può anche ottenere dalla natura, per esempio dalla fermentazione della canna da zucchero, ma viene addizionata ad iftalati, che sono molecole di sintesi per le caratteristiche di cui dicevo prima. Ma ecco, quando poi però questa plastica viene abbandonata in ambiente naturale, viene a contatto per esempio con il sole, oppure con l'acqua di mare o con un ambiente acido, tende a disgregarsi e gli iftalati a essere liberati. Gli iftalati hanno un'interferenza endocrina con le ghiandole nostre, con non solo quelle dell'uomo, ma pensando all'uomo, la medicina ci dice che possono avere delle ripercussioni molto negative nei nostri confronti, andando appunto a interagire con le nostre ghiandole e quindi anche far insorgere problemi ormonali o il cancro. Allora, da un lato, come sostengo e sapete, la cosa migliore è non liberarle, non buttarle nell'ambiente, se possibile limitare l'uso delle molecole di plastica nella produzione dei beni e far sì che queste molecole siano il meno pericolose possibili. E laddove la ricerca ci aiuta a riuscire a raccoglierle, ingabbiarle, ed è proprio quello che hanno fatto questi ricercatori italiani. Hanno scoperto come il pioppo bianco sia in grado, in particolare con le radici, di assorbire gli iftalati in una soluzione circolante, quindi un'acqua in laboratorio trattata con gli iftalati, in particolare col di-octil-ftalato, e il pioppo è in grado di raccoglierla, di assorbirla molto più di altre piante, di non patirne le conseguenze e quindi in grado di accumularla e di tenerla dentro di sé, in particolare dentro le radici. Bene, che dire, la ricerca può dare una mano, come però dicevo prima, meglio se non le buttiamo nell'ambiente, così evitiamo di doverle raccogliere. Buona giornata a tutti, ciao!